Le giornate di Pasqua si annunciano come una prima spinta positiva di un aprile fortemente attrattivo per la Sicilia con i ponti in programma per la festa della liberazione e per il primo maggio. Lo sottolinea il presidente regionale di Confcommercio Sicilia Gianluca Manenti. Nello specifico con riguardo al weekend di Pasqua, secondo le stime del nostro ufficio studi, che poi dovranno essere confermate dai fatti, spiega la quota di consumi in Sicilia salirà del 16% rispetto allo scorso anno. È certo una previsione che dovrà fare i conti anche con lo sciopero annunciato per il settore commercio e distribuzione cooperativa per Pasqua e Pasquette e per le prossime altre festività. Confcommercio Sicilia resta però fiduciosa. Ci attendiamo una Pasqua con il segno più, grazie soprattutto alla presenza dei visitatori stranieri e alla crescita di spesa media e consumi, dice Manenti. Il pienone nei ristoranti, più 25% rispetto al 22%, in particolare per quanto riguarda la giornata di domani, lascia ben sperare, così come le prenotazioni negli alberghi in crescita del 10%, in media ovviamente, rispetto allo scorso anno, che dovrebbero passo dopo passo proiettarci verso i livelli pre-covid, che ancora non sono stati affatto raggiunti. Emergono infine varie tendenze, come la crescita del 7% rispetto allo scorso anno, delle prenotazioni per partenze dei siciliani nei giorni di Pasqua, tra le più richieste meta italiane, città d'arte, ma anche agriturismi e, in minima parte, capitali estere.